Buongiorno! Sì, lo so, è una vita che non ci sono e ho deciso di tornare con un video tutorial su questo effetto di rosa sotto vetro. Vi lascio il tutorial. Inizio con stendere due passate di Poison Black. Ecco, nel video vedrete solamente prodotti di passione unghie perché io utilizzo appunto prodotti di passione unghie. Stendo una passata, polimerizzo 10 secondi e faccio la seconda passata. Polimerizzo altri 10 secondi e lo tengo solamente 10 secondi perché è un colore fast autosigillante e quindi non voglio che si autosigilli perché non mi serve sigillato. Fatto ciò, in una palettina a parte stendo un po' di Pure White che è appunto un bianco e un po' di sigillante Ultra Gloss che è senza dispersione. Con il pennellino super fine, come potete vedere, li miscelo tra di loro e questo mi servirà a ottenere un bianco un po' più latiginoso. E inizio a disegnare, come vedete, la rosa. Faccio un puntino centrale e da lì inizio a tirarmi le mie linee per ottenere una rosa stilizzata. Adesso con il Pure White, puro, quindi senza diluirlo con il sigillante vado a delineare i contorni della rosa e questo va a creare un effetto 3D come potete vedere benissimo. E polimerizzo poi, quando ho finito appunto di delineare tutti i contorni, per 10 secondi. Prendo ora un po' di Shocking Red, che è sempre un fast, e inizio a diluirlo con un pochino di sigillante in modo da ottenere appunto un colore un po' più tenue. E vado a ricoprire la rosellina. Lo polimerizzo 10 secondi e faccio una seconda passata sempre di Shocking Red, diluito con il sigillante. Lo risigillo 10 secondi, se serve faccio una terza passata altrimenti vado direttamente a sigillare con Ultra Bloss, in questo caso, che lascerò in lampada per 30-40 secondi. Ed ecco qua, la rosellina è finita. Adesso vi lascio uno spezzone di video perché ho fatto anche la rosellina blu, quindi se vi siete persi qualche passaggio e avete bisogno di rivedere un attimino come funziona, troverete tutto. Siccome sono logorroica e sapete che mi piace tanto parlare se mi seguite da tanto tempo, volevo solamente dirvi che a non sono assolutamente sponsorizzata da Passione Unghie anche se sono andata a fare da modella ben due volte, è stata un'esperienza bellissima. E seconda cosa, ho registrato già altri video di appunto nail art perché mi sto dando pazzamente alle nail art e vabbè, se mi seguite su Instagram potrete vedere un sacco di foto che pubblico molto spesso. E poi cosa vi volevo dire? E niente ragazzi, spero di con questo tornare perché vi dico che torno, poi non torno, insomma, credo che sto tornando. e per chi di voi non lo sa la famiglia Brighella si sta allargando quindi arriverà un nuovo Brighellino e quindi sì, ci vediamo presto ragazze. Ragazze, ragazzi, sono per lo più ragazze e niente, basta, smetto di parlare perché comunque in un video di 5 minuti ho parlato per 5 minuti. Quindi ciao, ci vediamo presto in un prossimo video! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!